Si chiudono le porte e si parte. La funicolare di Biella è tornata in funzione per somma gioia degli utilizzatori, che dopo cinque mesi di chiusura possono finalmente tornare ad adoperarla come collegamento fra Biella Piana e Biella Piazzo, godendo della vista meravigliosa nonostante la pioggia di metà gennaio. Grazie.